Tupini. La viabilità della strada è interessata da una modifica temporanea con il senso unico di marcia da Viale dell'Astronomia a Piazzale Parri. Le linee di bus 31, 771 e 780 in direzione di Vialaurentina, Viala America e Piazzale Nervi sono deviate su via di Valfiorita, Viale Geo, Via dei Primati Sportivi, di nuovo Viale Tupini, quindi Via Europa e da qui itinerari abituali. E domani in centro dalle 9 alle 13 a Piazza Bocca della Verità manifestazione sindacale dei lavoratori team. Attese mille persone in caso di chiusure su via dei cerchi, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli saranno deviate 11 linee di bus. E tutto appuntamento alla prossima edizione.